salve a tutti oggi torta di prugne con crumble una torta che ho preparato ieri sera adesso siamo qui nel nostro luogo di mare il passetto seggiola del papa guardatevi la ricetta e dopo prova di assaggio qui al mare buona visione vai partiamo con la preparazione del crumble vediamo subito gli ingredienti 125 grammi di burro che ho provveduto a sciogliere e a lasciar raffreddare per almeno circa un'oretta perché siccome questi giorni è fresco 35 gradi allora un'oretta ci vuole tutta 130 grammi di farina 120 grammi di zucchero poi vedremo alla fine della torta se è un po troppo dolce oppure è giusto perché con lo zucchero magari dobbiamo fare delle delle prove oggi ho messo 120 grammi però magari può venire un po troppo dolce e potete insomma regolarvi ne mettete un po di meno o se vi piace parecchio dolce ne mettete di più ne potete insomma mettere un camion ma dopo viene insomma non schifo no ma ragazze e ragazzi viene un po troppo dolce testa partiamo con la preparazione mettiamo il burro sciolto uniamo la farina e poi lo zucchero iniziamo a mescolare con la frusta dovremo ottenere un composto duro ma friabile in modo che dopo potremo scagliarlo sopra alla torta sopra le prugne e adesso continueremo a mano perché tanto prima o poi in cucina le mani bisogna sporcarsene sempre allora leviamo l'impasto dalla frusta vedete viene via benissimo subito e adesso solita sporcattina di mano l'importante che si amalghino bene gli ingredienti ecco l'impasto è a posto che dopo dovremo trasferire in frigo che si indurirà e diventerà più friabile praticamente adesso vi faccio vedere al volo così ma ancora non è pronto ecco vedete adesso ancora non si scaglia troppo bene perché deve essere messo in frigo un attimino mi lavo le mani no perché se dopo devo prendere la terrina per trasferirla in frigorifero con le mani piene di burro o sporco tutto qui intorno oppure squish squish mi sfugge la ciotola si va per terra e il dolce ciao mani lavate presa sicurissima lo mettiamo in frigo e ora gli ingredienti per la torta perché se non facciamo la torta il crumble che abbiamo preparato cosa facciamo lo buttiamo via ragazzi ragazzi facciamo la torta vediamo gli ingredienti 200 grammi di burro che ho provveduto a tirare fuori prima perché deve essere a temperatura ambiente in quanto si deve sciogliere nell'impasto deve essere morbido non sciolto perché se lo prendiamo dal frigo lo tiriamo fuori tutto un blocco e insomma rompiamo tutto è un casino viene uno schifo tiriamolo fuori prima e non mettiamolo a sole perché sennò via e buttiamo via tutto anche qui insomma il burrettini 200 grammi di zucchero a velo 250 grammi di farina doppio zero ovviamente non vi venga nella testa di prendere due confezioni di farina tipo zero e mischiarla perché vi viene la doppio zero insomma la testa sempre un cucchiaino di lievito in polvere quattro uova anche le uova devono essere a temperatura ambiente e soprattutto buone buone prendetele dal vostro fornitore di fiducia se non avete solito discorso che ho detto anche in precedenti ricette una bella gallina da tenere al terrazzo in terrazzo che vi fa l'uovetto fresco insomma rimediamo con una gallina una gallinella circa 800 grammi di prugne che chiaramente se avanzano non è che le buttiamo ce le papperemo ce le papperemo però ecco buttiamo solo il minoccio perché sennò insomma questo qui se lo mangiamo dopo andiamo dal dentista dentin è partito il dentin spendiamo tanti soldini poi gli attrezzi del mestiere immancabili se no come facciamo facciamo con le mani ma qualcosa ci vuole per aiutarci l'immancabile sbattitore con le fruste questo è un attrezzo un elettrodomestico che non deve mai mancare in una in una buona cucina questo insomma importantissimo una teglia diametro 24 26 centimetri al quale ho applicato sotto della carta forno e anche ai lati cospargendo di burro i lati e facendo delle striscioline di carta forno per fare questo risultato l'ho fatta un po più alta del della teglia stessa perché se la torta dovesse crescere troppo non deborda al di fuori insomma se dovesse venire un bel panettone ma insomma non deve venire un bel panettone dovrebbe venire anche un po più bassa o a raso e se viene più alta abbiamo sberato qualcosa tipo abbiamo messo un camion di lieviti in polvere anzi che un cucchiaino insomma la testa eh poi c'è da dire che insomma a proposito di panettoni anche se è estate il giorno di ferragosto nel posto di mare nostro al passetto è stato servito un panettone da cinque chili da cinque chili e ce lo siamo papato tutto per primati insomma non è che so fuori una parecchia e poi il setacino per la farina questo è un setacino di mia di mia suocera che è una signora insomma di una certa età ma non è insomma anzianissima però mi sorgono dei dubbi perché sembra sembra che questo setacino provenga dalla battaglia delle termopili e abbia conosciuto anche pelopida ed epaminonda quindi mi associo alla zona proprio giovane ma sa che non è setaccio setaccio per la preparazione delle prugne le divideremo in due e le priveremo del nocciolo semplicissimo gioco da ragazzi questa è un'operazione che potrete fare se fate la torta a voi donne far fare alle vostre donne e viceversa se la fate voi donne la fate fare ai vostri mariti che saranno felicissimi di farla chiaramente oggi devo fare tutto io perché mia moglie riprende quindi insomma le taglio ecco le nostre prugne pronte qualcuna ne ho tagliata anche in quattro ossia da mezza ne ho fatta altra mezza ci servirà dopo per coprire i buchi eventuali della della torta per riempirla un po tutta passiamo l'impasto e adesso iniziamo a entrare nel vivo iniziamo ad amalgamare burro e zucchero a velo buttiamo il nostro burro morbidissimo zucchero a velo e vai con le fruste ci aiutiamo con la nostra spatola magica per comporre bene il tutto consideriamo circa otto minuti per fare questo impasto otto minuti quindi cosa facciamo mettiamo una bella sveglia di otto minuti ecco messo la calcolatrice perché non c'è sto più è una bella sveglia di otto minuti e andiamo sono passati otto minuti adesso uniremo le uova una ad una ad intervalli di quattro minuti quindi uniamo nuovo mescoliamo per quattro minuti poi un altro uovo altri quattro minuti e così via fino alla fine una cosa importante la velocità di sbattitura al minimo sempre al minimo minimum english ci vuole sempre minimo thank you oh yes guardate che belle uova guardate come sono già le fantastiche aggiungiamo l'ultimo uovo nel frattempo ho provveduto ad accendere il forno vai con l'ultimo uovo e con gli ultimi quattro minuti di impasto ecco mia moglie mi deterge il sudore è un caldo ragazzi ragazzi via impasto impasto abbiamo finito di impastare con le uova adesso mettiamo la farina prima cosa da fare uniamo il lievito in polvere alla farina e mescoliamo così si amalgama e poi passeremo a setacciare la farina e metterla piano piano nell'impasto fino a fare un composto omogeneo nell'impasto potete metterci anche un pizzico di sale in quanto ne esalterà pure e ne esprimerà la dolcezza io in questo caso non ho messo chiaramente la farina da tutte le parti perché è impossibile proprio che sia precisa che ci prendiate a meno che non prendiate una vasca da bagno e andiamo con l'ultima mandata di farina e terminiamo il nostro impasto anche con le fruste dura con questo caldo ecco il nostro impasto finito omogeneo guardate che bel colore giallo le uova fanno la differenza fanno la differenza la differenza la differenza mettiamo il nostro composto nella teglia potete fare questa torta anche con una teglia di diametro inferiore e in questo caso verrebbe più alta io preferisco la teglia come vi ho detto di questo diametro in quanto ci mettiamo tante più prugne e secondo me è la morte sua in modo da farmi un disco ma no di quelli che sono non è ragazze ragazzi no il vecchio lp è bezzo poi io sono un cultore dei dischi dei dei vinili con un mio amico quando si parlava di vinili ci alzavamo insomma c'è di livello è questo no non siamo matti una volta una cena mia moglie e la moglie di questo mio amico parlavano di vinili avranno nominato i vinili una trentina di volte ci siamo alzati una trentina di volta la gente ci ha preso proprio ma dici ma questi mazzolo è fuori del testa ecco qua torta livellata passiamo a mettere le prugne è importante che quando disponete le mezze prugne disossate sulla torta ricordatevi di mettere con la buccia rivolta verso il basso importantissimo perché in questo modo la polpa del frutto non farà inzuppare la torta di succo e si asciugherà bene e quindi verrà il dolce è perfetto giro giro tondo casca casca il mondo tutta la torta va per terra no insomma ragazzi tutta sta faticata può va per terra no a 500 iscritti canterò o sole mio ma quindi se mi volete vedere cantare o sole mio e scrivetevi insomma come se fanno di scriversi con ste ricette o ragazzi una bomba una ma sono pappata perché ne avanzano un po possono bastare adesso metteremo sopra il crumble e poi inforneremo lo tiriamo fuori dal frigo e poi inforniamo vedete come si è indurito adesso con un cucchiaio lo pezzetto un po e c'è il frigorifero a tre gradi copriamo tutta la torta col crumble che abbiamo fatto come vi viene bene non è che dovete fare i pezzi tutti omogenei insomma basta che con la quantità fatta lo cospargiate tutto per azione questa è una torta facile ma la preparazione un po lunga però ma la fine figuro pronta per essere infornata mettiamo il forno a 180 gradi per circa un'ora via meanwhile c'è da dire anche un'altra cosa che io quando sono stato in polonia da mio suocero e mia suocera loro sono specializzati per i dolci ce ne sono tantissimi una varietà impressionante il mio suocero mi portò in una pasticceria dolci a perdita d'occhio e mi ha detto solo una parola mangiare ho preso un dolce avrà pesato 20 chili era buonissimo ma se mi cadeva in un piede me lo rompeva era pesantissimo come consistenza un concentrato ma eccezionale sono molto specializzato per i dolci in polonia vi invito ad andarci in polonia a cracovia soprattutto vedrete che roba bellezze e si mangia veramente divinamente è è passata un'ora ho sfornato vediamo il risultato eccolo facciamo la prova stecchino per sicurezza prova stecchino stecchino e non stuzzichiamo ci incidenti per la torta asciuttissimo è pronta adesso la lasciamo freddare e poi passeremo con l'assaggio già l'odore una cosa eccezionale e ora la prova di assaggio ne ho tagliata una fetta la cottura è perfetta eccezionale l'unica cosa forse è un po troppo dolce perché il crumble diciamo abbiamo messo anche un po di meno di zucchero di di quanto ne volevo mettere consiglio di mettere meno zucchero sul crumble sarà dosata di zucchero perfettamente provatela e poi mi direte nei commenti cosa ne pensate grazie a tutti per la visione e alle prossime ricette ciao